Non c'è talvolta, nano, proprio nano, che una sera decide di andare in scoperta, allora nano decide di andare in scoperta, cosa fa, ti prepara tutto, si mette il berretino, quello li dà, da nano, vabbè, ci manca, dopo c'è la monta del foggine e metti il berretino, ci vesti nel tuo bambino, e la barba lunga, e va per il bosco, va in scoperta per il bosco, però a un certo punto nano incontra nano, 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 nano. Non mi puoi sticciare le fragole! nano incontra nano nano nel bosco e nano nano chiede a nano cosa fai stasera? e nano risponde a nano nano guarda se il nano è di discoteca quella nuova che hanno appena aperto con la prana dei pighe e nano nano fai nano cazzo ganso vengo anch'io nano fai nano nano va bene? vai a prepararti perché così non puoi finire vestito laminatore con piccolo in mano va sempre poi la regna come insieme allora nano nano lascia nano fuori dalla casa che i funghi si cada come il caso di nano e il nano nano inizia a prendersi cioè non mi vuoi che rompere una parte di legge mi ha messo a prendersi ma adesso non ti ha buttato via abbastanza il nano nano va in casa non ti fai colpi di soli nella barba buttato il piccolo e si leva dal fango si prepara per la discoteca e allora nano e nano nano vanno in discoteca passando per il bosco questo sottobosco immaginari no? allora nano e nano nano a un certo punto incontrano nano 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 e nano 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 fa a nano nano e nano cosa fate stasera? e nano e nano nano che fanno la nano 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 stiamo andando in discoteca passando per il bosco guarda la discoteca no? c'è presente con i ragazzi il cubo con le minicone e nano 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 un po' imbogliato da questa pubblicità un po' come dire hard che ti fanno nano e nano nano i suoi amici di infanzia decide di andare anche lui e allora nano 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 va a prepararsi si lascia nano nano e nano nano fuori in casa magari gli offre un caffè a quei punti che c'era già fatta per la tardi e allora nano 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 inizia a prepararsi si mette la salopezza della minacore e quella un pochino sulla tillana quella dal salto in discoteca morale della favola nano 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 e nano 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 vanno in discoteca passando per il bosco solo che nano 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 e nano 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 incontriano nano 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 a un certo punto ma quanti sono adesso? non romprevo i giocatori e nano 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 chiede a nano 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 e nano 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 cosa fate la sera? a questi punti lì nano 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 e nano 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 rispondono a nano 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 stiamo andando in discoteca passando per il bosco non è quella discoteca nuova che ha aperto dal fuoco quella che ha i fuori dietro quella che fa i fuochi d'artificio quella con la cucina interna che è quello di un pochino più malanza dei quattro, quello di che fa subito il cazzo subito no, soltanto è quello che ci mette anche di più a prepararti, no, nano, 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 stanno un pochino lì vicino a casa, c'è anche una pochino vicino a casa, si fanno fare un panino, no, non prego neanche se, un picchio. e inserano a mangiare le tue passe e lo dispi giving un macaroni udiano e si fanno un surplus di proteine e ti fanno andare a ballare, si consuma e intanto nano, nano장, nano, 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 iela, morire vuole cominciare alachts commodity, no, nano, 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 nano e il nano 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 e il nano 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 e a prepararti quello di che si sta a buttare una camicia per bene, la roba è già cambiata, la mano no, e di caldo c'ha le minizioni n n n n n sopra la mano, e quando lo nano lo considera, non lo confondono con n n n n n n n n n, lui è n n n n n, insomma ti preparato e allora, allora n, nano 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 nano, nano nano nano, banno in discoteca, passando per il top, e a un certo punto che ti trovi sotto un albero a farti di fiombini come fai, ci ferai, no 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 nano nano, che è lui l'amico quello di collocchiaio, quello con la barba lunga, no no nano nano, quello di chi è cresciuto facendosi tutto l'erba è in pantana per i polcoli della parte tutta, e allora allontanano il po', oh ciao nano, ciao nano nano nano, ciao nano nano nano, ciao nano nano nano, che cosa fate stasera, venite a fumare come ciotte funghetti in questo senso, e nano nano nano, nano nano nano, non ce l'avamo con mia a farla finchia, eh e nano 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 nano, nano nano nano, rispondeva nano 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 nano, stiamo andando a me dicio cos'è, quella nuova, ci presento quella lì bellina che hanno aperto, quella lì, appena finisce cos'è, però nano 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 nano, tanto fano, tanto dio, eh, che convincono nano 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 nano, andare in discoteca, oh lui, lui non c'ha da prepararti, sai, è un po' frigo, è un figlio libero, non c'ha bisogno di prepararti come nano 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 nano, cioè, nano 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 nano, è un figlio dei fiori, porca puttana, lui va con nano 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 nano, tranquillo va con loro, tranquillamente, e allora morare a favore, nano 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 nano, che è quello lì, il discotecato, e nano 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 nano, che è il brecchettone, vanno in discoteca qualcosa per il bosco, però a un certo punto gli si beccano, e si beccheranno, se no nano 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 nano, bellino, eh, stanzantosi, è più bellino di tutti, molto probabilmente, leggermente più alto con gli occhi azzurri, con la barba bionda, e quello lì che con lo sguardo faceva cascare a tre puffette, così, non c'era, non c'era problema, non c'era problema, non c'era problema, non c'era problema, non roba le coglioni anche lei, porca puttana, non c'era più tempo per fare, eeeh, ti guarda, non c'era lontano, ehi ragazzi, si, quindi stiamo andando in discosate, eh, nano 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 nano, rispondono a nano 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 nano, ieee, si, stiamo andando in discoteca hotel, o la prova lontana aula no, no, che già intenzionava un attimino a, come dire, divertirti per la strada, e dice a nano, nano nano, nano nano, nano nano nano, nano 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 nano, e il bricchettone nano 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 nano, che ha le banche con la persona che ha visto che si pensa da prepararsi, va nella sana, porca puttana, si mangia al berretto, perché quello rosso non dava, non va più di moda, si prova quello blu, un attimino di lato, chiede consiglio a nano, per un nano, se ne intende, tanto allora li chiama dentro nano 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 nano, si ripropa quello nero, quello lì con la cinghia bianca, alla fine, nano 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 nano, e nano 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 nano, è l'ultimo entrato, nano 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 nano, vanno in discoteca, passando per il bosco, non rompono i coglioni! La discoteca è chiusa, ma che mica? No, finisce il bosco, dall'altra parte hanno la discoteca, quei riflettori che puntano verso il luogo, fanno quegli aloni stupendi, delle ticche con la minicone, razotopa, però, di di vivere la discoteca, un po' si la pensa, ma come si fa? Allora nano 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 nano, nano 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 nano, si guarda un attimo, toccandosi la palla, tocca la notyella, e mo se dimmi passi se cammino i passi da nano o da nano nano è un problema c'è un po' di meno fonti come sarebbe dall'altra parte? qui bisogna saltare mettiamoci anche le sbizzerine soprattutto la sovaglia qui bisogna saltare il primo fra tutti è nano 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 che fa? ragazzi io non ho un problema quello figo c'avevo presente nano 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 e il biondo giochi azzurri se ne mette più a venti con il filo di ramminatore io ce la faccio piglio un po' di rincorsa e salto da l'altra parte con bloccare adesso anche due o tre per esempio lo caldo non rompe le coglioni guarda la discone ha fatto il passo indietro guarda lo spirito è postato guarda l'escoceano il biondo inizia a correre salta e casca nel burrone e muore nano 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 si guardano a terri tipo a cazzo no che si fa Ma che problema c'è? Dice al Nano 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 Nano, mi sta ascoltando troppo Mi sta pioccando il posto Ma che problema c'è poca puttana e marzo? E' io ci metto io, io voglio andare in corsa, se ti metti in mezzo, beh se ti metti in mezzo lleghe di piace la sveglia storia è un problema penso io v 생 monsters andalowski nah pida la rincuenza e inizia a correre queste cose emozionata a che pezzi corre una bella corsa e poi sarta un po' un ciampando a casca di testa è morta. Adora sono morti nano 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 e nano 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 sono morti. Immaginatevi il dispiacere di nano 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 e nano 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 e nano 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 nano. Se si guardano un po' a te dire. Non rompere i coglioni! Non rompere i coglioni! Mi mancano due minuti e finisco la scheda memoria! Non rompere i coglioni! Mi mancano due minuti e finisco la scheda memoria! Non hai due ore di memoria? A quei punti si fanno una promessa! Dobbiamo provarci! A questi punti dobbiamo arrivare! Sono morti i nostri amici nel tentativo! Nano 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 nano! Non fosse che cercavano tutti e chiedevano wow prima è normale che cazzo! Prima e poi qualcosa si trova! Dobbiamo provarci a questi punti! E allora nano 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 Se vi promettono di provare la ricerca di testa! Prima e provarci è nano 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 nano! Che prima guarda dall'ordo del burlone Guarda il cadavere di nano 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 e nano 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 Mi ha sempre voluto bene e allora nano 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 torna indietro e fa l'errore errore è stato per non perdere tanta avventura! Effettivamente qui torna indietro con questa salopezza sportiva che ti ricordate che nano 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 Si fa un po' di ricorsa guarda nano 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 e fa... Riusci, prova allora! Inizia a correre, Gugliorno! Slari burlore! Scassi scasa nel него! Ahahahahahah! Bravo! Adoro nano 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 nano. Eh nano 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 nano. Eh nano 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 nano. É nano 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 nano. Non rompere i coglioni! Eh non lo sai! Eh! Sto dicendo quelli che sono morti! Sono morti! Sono morti, caduti nel burlone. Nanno, 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 si guardano un po' terrisi, guardano dentro il burrone i cadaveri di Nanno, 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 E, Nanno, 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 e l'ultimo deceduto, Nanno, 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 un po' terrisi fa. Ci inserisci indietro, e gli bianca, e va Nanno, 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 ma che c'è? No, ha ragione, Nanno, 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 fanno. Nanno, 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 Nanno. Però c'è anche... Cioè, però, sanne c'è Nanno, Nanno Come fai a dirlo ai babbi Nanno, Nanno, Nanno Nanno, Nanno, Nanno E la famiglia di Nanno, Nanno, Nanno E ho la mamma di Nanno, Nanno, Nanno Che sono morte Porca fuori figlio E racconta, porca puttana Cioè, magari Puoi dire che Nanno, Nanno, Nanno Nanno, è morto dopo il dodore Ma Nanno, Nanno, Nanno E era bello in salute Come fai a... Cioè, va bene, te amo assorto Dai, che è pronto il nostro padre Che devono fare il biglietto Nanno, Nanno Il cadavere di Nando, 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 Nando.